Per incrementare le operazioni di controllo sulla costa salernitana, sul mare, sui bagnanti, sui diportisti, la Capitaneria di Porto di Salerno è pronta ad avvalersi anche di un drone. La possibilità è emersa nell'abito di un incontro presso la Capitaneria tra il Comandante Giuseppe Menne e la Dirigente della Protezione Civile della Regione Campania, Claudia Campobasso, per fare il punto della situazione sulle attività svolte nel mese di giugno, ovvero nella prima fase dell'operazione Mare Sicuro 2019. Il bilancio prevede come al solito circa 50 uomini dislocati su tutta la costa del circondario, in particolare la costiera amalfitana, altri uomini circa 100 dalla foce del fiume Sele sino alla fine del nostro compartimento che è Sapri. Il bilancio, grazie a Dio, in questo momento è più che positivo, nel senso che non si registrano grosse infrazioni, se non quelle proprio ai minimi termini. Il sistema di protezione civile campano da oggi partecipa fornendo collaborazione attraverso i volontari del coordinamento Rete Campania 2020 che sotto la direzione della Capitaneria di Porto di Salerno darà la possibilità di aumentare la sicurezza anche attraverso l'impiego di un mezzo nautico utilizzato come supporto nell'assolvimento dei compiti istituzionali delle sentinelle del mare. Rientrano queste associazioni di volontariato per noi sono fondamentali, sono indispensabili per chi svolgono per la collettività un'opera essenziale. L'accordo prevede una collaborazione stretta in relazione a quelle che sono le principali attività nostre di competenza, la salvaguardia della vita umana e mare, ma soprattutto un'attenta attività di monitoraggio a difesa dell'ambiente marino. Ma nel corso dell'incontro la protezione ha rappresentato al comandante della Capitaneria anche la possibilità di impiegare un'ulteriore risorsa, ovvero un drone, per poter controllare la sicurezza e tutelare l'ambiente lungo il litorale salernitano. Il drone, oltre ad avere una videocamera, è dotato anche di una termocamera per facilitare le ricerche in orario notturno. La cosa che più ci fa piacere sottolineare è che la Regione Campania, questa associazione che opera, cioè il Dipartimento di Protezione Civile che opera per la Regione Campania, è dotato di uno strumento, un drone, che permetterà di sapere per tempo, insomma, dove è una fonte di inquinamento, dove si trova un disperso. Quindi veramente siamo contenti.